Un utile netto di circa 200.000 euro, un aumento del fatturato e interessanti prospettive per l'anno in corso. Questa è in sintesi la risultanza dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio 2017 della gestione municipale SPA, società interamente partecipata dal comune di Diano Marina. L'amministratore unico Domenico Suraci ha evidenziato come il bilancio si sia chiuso con un risultato analogo a quello dell'anno precedente, portando a oltre 800.000 euro la somma versata dopo sei esercizi nelle casse del comune degli Aranci. Suraci ha spiegato che la GM gode di ottima salute, il valore della produzione ha fatto registrare un incremento del 3% rispetto al 2016 con ricavi per oltre 2.200.000 euro. In crescita le entrate del settore spiagge, stabili quelle dei parcheggi, in leggera flessione quelle del porto che si spera di migliorare grazie a lavori fatti per l'allungamento del molo di sopraflutto. La GM su incarico del comune ora si occupa anche della gestione dei servizi di affissione e per questo ha assunto due persone in più e gestisce, come lo scorso anno, il centro per le informazioni turistiche.